Individuati e denunciati. Sono cinque giovani che vivono in un campo nomadi di Vicenza. Secondo gli investigatori sarebbero loro i responsabili della violenta rissa esplosa giovedì sera vicino a un bar di Viale Sant'Agostino. La polizia allertata era arrivata sul posto mentre i partecipanti alla rissa cercavano di darsi alla fuga. Gli agenti però erano riusciti a fermarli e a identificarli prima che potessero allontanarsi. In tutto nove persone coinvolte. Uno è risultato ferito in varie parti del corpo. Si tratta di un 38enne marocchino che, supportato da tre testimoni, ha raccontato di essere stato aggredito dai cinque giovani. Secondo la ricostruzione pare che al momento della chiusura del locale i cinque, accusandolo di aver graffiato un'automobile, lo abbiano colpito con foga, con calci e pugni. Solo l'intervento di alcuni testimoni e l'arrivo della polizia ha evitato che il pestaggio potesse sfociare in tragedia. Il cittadino marocchino all'ospedale San Bortolo, sottoposto a intervento chirurgico, ha una prognosi di 30 giorni. Al termine delle indagini condotte dalla polizia, anche con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i giovani considerati responsabili tutti tra i 20 e 30 anni sono stati denunciati per risse e lesioni personali volontarie gravi. In più il questore Paolo Sertori ha emesso nei loro confronti il metodo di accesso negli esercizi pubblici per due anni. In caso di violazione rischiano sino a due anni di carcere e una multa fino a 20.000 euro.